detto questo lo studio dello strumming sembra a volte una cosa banale perché ovviamente tutti iniziano a suonare la chitarra acustica praticando gli accordi e giri armonici con delle ritmiche ovviamente ma ovviamente suonare in modo giusto anche diciamo come dire professionale e in modo adatto alla discografia praticando lo strumming diciamo all'interno dei brani non è una cosa proprio semplice e scontata perché ovviamente diciamo il numero delle pennate il levare imbattere secondo la figurazione del brano secondo la scelta del voicing che facciamo e tutta un'altra serie di cose diciamo fanno di quello strumming diciamo possono fare di quello strumming diciamo una versione amatoriale e portare una versione invece professionale quindi è importante diciamo curare determinati dettagli adesso vi suggerisco una serie di esercizi che potete fare per migliorare da questo punto di vista ovviamente la caratteristica fondamentale è sempre la stessa ovviamente praticare sul metronomo e ovviamente a velocità crescenti e anche in diverse posizioni perché dobbiamo allenare anche molto il passaggio fluido tra gli accordi nella progressione armonica quindi partendo da una parte c'è da le figurazioni più basilari ovviamente diciamo io metterei un accordo mi maggiore abbiamo cambiato non più sol maggiore passiamo a me in questo caso pratichiamo con le semi minime quindi ovviamente le semi e semi minime verranno tutte in battere mentre se passiamo alle crome ovviamente avremo battere e levare con la pennata ovviamente non è che per forza deve essere così perché potremmo anche fare le crome tutte in battere però per pratica cominciamo in questo modo qui quindi facciamo semi minime però ripeto possiamo anche praticare poi tercine che possiamo anche praticare quindi giù su giù giù per avere sempre l'accento in battere della penata del downstroke e ovviamente sedicesimi quindi con l'accento in battere i sedicesimi ovviamente li possiamo una pratica che vi consiglio di fare è quella praticamente di suonare gli accenti spostandoli non sempre in battere ma come seconda semi croma sulla terza semi croma e sulla quarta semi croma tipo sulla prima e meno così seconda sulla terza sulla quarta e quindi